E' stato purtroppo un anno molto molto difficile, un anno a livello sanitario disastroso e a livello economico a seguita ruote. E' stato veramente un anno molto difficile, non ce l'aspettavamo, però grazie comunque ai vari comuni, al Comune di Pesaro, al Sindaco Ricci, all'Assessore Franco e Luci, alla Stefania Marchionni e a tutte le istituzioni. Siamo riusciti comunque da maggio a lavorare sempre, che ci ha dato una mano. Primo mercato dell'anno che si svolge in una data diversa da quella che solitamente vede le bancarelle qui al mercato San Deccenzio per la zona rossa che ritornerà domani anche qui nelle Marche a Pesaro. Sì, abbiamo chiesto all'amministrazione di poter anticipare il mercato lunedì 4 gennaio, in quanto domani è zona rossa. L'amministrazione ha accettato e ringraziamo che ci ha fatto fare il mercato e anche i vigili che stanno girando alla protezione civile hanno fatto i sensi unici, quindi tutte le protezioni e tutte le norme anti-Covid sono rispettate e abbiamo preso questo giorno di lavoro, in quanto qui stiamo lavorando a singhiosto, due giorni chiusi, un giorno si lavora, poi tre giorni chiusi e comunque anche per noi è difficile sia programmare il lavoro sia affrontare i pagamenti che comunque quelli hanno scadenze fisse. Io sono sempre positivo, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, però comunque questo clima di incertezza che è zona rossa, zona arancio crea insicurezza, nervosismo, anche un po' di cattiveria nelle persone perché comunque sia noi ci viviamo col nostro lavoro, ci mangiamo, quindi non sapere se tra due giorni possiamo lavorare o non possiamo lavorare ci crea molto disagio, ma così per tante attività perché purtroppo il governo non ha una linea, ogni 3, 4, 5 giorni, settimana si cambia le carte in tavola, domani chiusi, poi aperti, insomma ci fa preoccupare e innervosire. Spero che i mercati possano continuare a svolgersi regolarmente, anche perché poi gennaio, febbraio, marzo sono storicamente periodi dove ai mercati c'è un notevole calo sia di vendite che di clienti, quindi non c'è il rischio di assembramenti al mercato, soprattutto questi periodi invernali. Grazie. Grazie. Grazie.